Sdegno e sorpresa lo stabilimento Electrolux di Susegana nel Trevigiano all'indomani della soluzione polacca ventilata dai vertici della multinazionale svedese per salvare dalla crisi le quattro sedi italiane dell'azienda Porcia, Solaro, Forlì e Susegana. Stipendi di mezzati, premi di produzione ridotti, blocco degli scatti di anzianità, pause permessi ridimensionati, in altre parole standard polacchi. Queste le cifre della cura trapelate da fonti sindacali dopo il vertice di ieri a Mestre. Numeri interpretati diversamente dalla dirigenza svedese secondo cui la proposta sarebbe di un taglio medio mensile in busta paga dei 130 euro. Una proposta comunque indigesta ai lavoratori che oggi hanno sfilato due volte per protesta nel Trevigiano ad ogni inizio turno. Ovviamente è inaccettabile per una ragione molto semplice che con 800 o 900 euro al mese le persone non possono vivere e uno lavora per vivere, viene qui per poter mantenere sé e la propria famiglia. Un caso Fiat per il Veneto ribadisce per l'ennesima volta al governatore Luca Zaia e risponde alla politica nazionale con un tavolo di concertazione annunciato per domani a Palazzo Chigi alla presenza del ministro Zanonato, dei vertici Electrolux, dei lavoratori e dei rappresentanti delle regioni interessate al futuro degli stabilimenti. Poniamo delle minime speranze, ci proviamo. Quello che ci auguriamo è che invece questo governo sappia realizzare quello che deve realizzare salvaguardare industria, renditi, occupazione e condizioni di salute dei lavoratori.